Il 5 dicembre è stato il compleanno di Maria De Filippi che ha compiuto 57 anni. La conduttrice è stata inondata di messaggi di affetto e auguri da tantissimi artisti che ha lanciato come Emma, Alessandra Moroso, Stascia oppure Alessio Bernabèi. Il regalo più bello però lo ha ricevuto da Maurizio Costanzo che le ha fatto una dedica speciale. A CR4 La Repubblica delle Donne, Queen Mary ha detto che Maurizio l'ha conquistata con la parola La Presenza e la Costanza. Il giornalista l'ha più volte definita la donna della sua vita e quando se ne andrà ha detto vorrà tenere la mano di Maria. In una recente intervista inoltre ha dichiarato Quando ho incontrato Maria De Filippi è scattata la magia, è quella che aspettavo da sempre.